Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo e ultimo video della stagione Ma non ci sono parole secondo me per descrivere questo momento prima di quest'ultima giornata di campionato Perché si decide tutto oggi, purtroppo sappiamo che i risultati a nostra disposizione è, diciamo, due favorevoli Sia la nostra vittoria che la sconfitta del Milano, per cui le possibilità sono veramente poche Però comunque ci siamo qua è perché ci crediamo, il San Siro ancora si deve riempire, manca un'ora all'inizio della partita Però sarà una volgia, che dire, vedremo a fine partita come andrà e nulla Non diciamo niente perché orecchia sassuola e cerchiamoci la nostra partita Esatto, assolutamente Stagione comunque positiva, due trofei comunque portati a casa Vediamo, vedremo a fine partita come andrà Non sarà, non lo so, cosa potrebbe succedere Vediamo, vediamo Comunque vi invitiamo anche per quest'ultima partita stagionale a scaricare l'app di OneFootball Primo link in descrizione, mi raccomando ragazzi Primo link in descrizione Forza l'Inter È anche un po' portato a suolo È anche un po' portato a suolo Dai ragazzi, comunque vada sempre, forza l'Inter È anche un po' portato a suolo Grazie a tutti Grazie a tutti Buon link in descrizione, mi raccomando ragazzi 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 E' finito il 9.5, Mani Salvo! All'inizio, Cirove! 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 Inizio, Cirove! Dai ragazzi! Dai ragazzi! Mettila! Bello, bello! Oh! Uno che punta la porta! Uno che punta la porta! Calcia! Non ci credo! Dai, tira! No! Calcia! Calcia! Non ho parole! E non ci credo! Mamma mia che pomeriggio di merda! Cirove! 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 Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì.